Peppa Faiello è da poco terminata la gara a Belvedere Laviano che finisce con un putteggio da tennis 14 a 4 Sì, è stata una partita molto tranquilla, oggi siamo divertiti, partita che non è stata mai in discussione Netta differenza di gioco Prossima gara? La prossima gara dobbiamo andare a Conca dei Marini contro una squadra ben organizzata che a differenza della partita andata si è rinforzata e sta ottenendo bei risultati Sarà dura perché sarà una partita giocata infrasettimanale di venerdì e sappiamo benissimo che l'orario lavorativo è un po' difficile arrivare a Conca dei Marini però ce la mettiamo tutta come sempre